E' un'altra parte. Non esiste, dai. Cos'hai? Cos'hai? Perché ho offerto di raccena. Ma quanto hai speso? Gli ultimi fuochi! Da dove mi fanno in cipolla, va bene? Ti stringerò Giuro che ti farò male Nella notte io mi accenderò La tua stella sarò Mi amirai Come non hai amato mai Come un'onda Io ti travolgerò Poi ti sfuggirò Che fai? Massimo No, 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 no Mettemi, giù!